ciao a tutti cari amici di youtube bentornati e ben trovati sul mio canale oggi siamo qua con il l'oracolo delle porte per andare a chiedere all'oracolo appunto se ci dice che tipo di energia e quindi che intenzioni che predisposizione a una persona nei vostri confronti nei tuoi confronti a seconda della variante ovviamente che sceglierete quindi utilizzeremo questo oracolo estrarremo una carta per ciascuna variante poi faremo la lettura scegliere della vostra variante prima di iniziare il video vi ricordo che è possibile contattarmi in privato tramite o i recapiti che vedete sotto a schermo oppure tramite il link che vi lascio sopra è il mio link tree albero dei link dove praticamente voi lo cliccate e vi si apre una pagina dove trovate tutti i bottoni tutti i pulsanti da tutti cliccabili il primo in assoluto è quello per contattarmi su whatsapp ma sotto ci sono il riferimento al mio sito instagram facebook insomma tutti quanti i miei social e tutte le mie pagine vi invito ad andare a visitare il mio sito internet che viene comunque costantemente aggiornato dove potete trovare anche informazioni su quali sono diciamo le tipologie di consulti che potete fare con me se volete prenotare un consulto contattatemi su whatsapp o per email oppure appunto direttamente su whatsapp tramite il link che trovate nella bio eh sì nella bio scusatemi nella non nella bio nella bio di instagram ok ma anche nel adesso quello che vi lascio sopra quando compare appunto questo è già comparso ehm cerchettino con la i ok benissimo ehm vi ricordo che questa lettura è una lettura collettiva vi ricordo che potete scegliere anche più di una variante assegnando ad una ogni variante a una persona diversa ok ovviamente se avete più persone dovete scegliere più varianti vi ricordo anche visto che comunque qualcuno recentemente me lo ha richiesto nuovamente che il consulto interattivo è sempre valido e è valido dal momento in cui lo vedete lo visualizzate ok quindi se è la prima volta che mi state guardando potete andare anche innanzitutto iscrivetevi al canale potete andare anche indietro insomma nella mia home nelle mie playlist andare a vedere tutti i video che ho caricato fino adesso e comunque saranno sempre validi nel momento in cui li guardate quindi non c'entra nulla il momento in cui io li carico o il momento in cui io li registro benissimo allora concentratevi quindi iniziate a pensare alla vostra persona scegliete la vostra variante o le vostre varianti e andiamo a vedere che energia ha questa persona nei vostri confronti ok allora andiamo a prendere un po' così le carte e facciamo scegliamo lasciamo che le carte ci chiamino vediamo per ciascuna variante quale carte ci chiama oggi allora vediamo un po per il cristallo arancio per il cristallo arancio direi questa poi per il cristallo azzurro e infine infine tristallo verde ok tra l'altro è bellissimo secondo me anche il retro di queste carte veramente belle queste non le ho fatte io però sono bellissime allora vediamo un po' concentratevi scegliete la vostra variante o le vostre varianti io vi lascio ancora qualche secondo se non avete ancora fatto la vostra scelta andiamo un po' a vedere variante arancio oh la porta delle stelle la porta delle stelle la porta numero 20 allora che tipo di energia ci porta questa porta allora innanzitutto come vedete è un'ambientazione notturna c'è questo sfondo con tutte queste stelle diciamo no che si che formano comunque un arco e voi sapete che comunque l'arco spesso diciamo è l'inizio di una strada ok e comunque attorno a questa fanciulla che vedete raffigurata c'è un alone luminoso che cosa porta questa diciamo questa carta diciamo attivata comunque ad una persona alle intenzioni di una persona allora diciamo che la persona a cui voi state pensando ha in questo momento diciamo delle speranze delle speranze per il futuro ma diciamo ancora probabilmente sta cercando di superare nei vostri confronti o rispetto comunque alla vostra situazione di superare un blocco ok cioè sta cercando di capire quale sia appunto la strada da percorrere cioè è vicina questa persona quindi a voler intraprendere un percorso insieme a voi quindi diciamo che forse però è un po frenata dai timori quindi che tipo di energia che tipo di intenzioni a questa persona nei vostri confronti a un'intenzione positiva di azione di movimento di di contatto eh di intraprendere comunque una strada nuova eccetera ma è un po' diciamo bloccata questa persona diciamo eh da eh da qualche timore da qualche paura evidentemente ha delle preoccupazioni ha dei pensieri ci sono delle situazioni che forse ecco ripeto rallentano un po' questa energia e questa iniziativa quindi iniziative scusate quindi potrebbe essere che le intenzioni di questa persona sono appunto sì di prendere iniziative ma di prendersi ancora un po' di tempo per rifletterci sopra potrebbe avere dei problemi da risolvere potrebbe avere delle situazioni da valutare potrebbe avere delle paure da superare appunto come detto diciamo però ecco diciamo che c'è qualcosa che ecco esercita un'azione un po' frenante quindi l'intenzione non è spavalda l'intenzione diciamo non è non completamente libera di fluire libera di andare ma è un'intenzione comunque di apertura ripeto l'arco presuppone una strada questo chiarore dietro a questa fanciulla comunque ci dà un'idea di luce che illumina questo cammino quindi sono tutte energie che ci fanno pensare in positivo ok benissimo questa era la prima variante quindi il cristallo arancio ok adesso andiamo infine infine andiamo ora a vedere per chi ha scelto il cristallo azzurro e andiamo a vedere che energia e che intenzioni ha questa persona allora oh questo è veramente bella questa carta è la carta della porta aperta l'oracolo numero 16 ok allora questa carta come vedete insomma è una carta molto interessante già diciamo in qualche modo come dire già fa vedere comunque no qualcosa di positivo ci dà una speranza positivo perché perché comunque vedete qua che la porta appunto è aperta quindi sicuramente la simbologia di una porta aperta è sempre una simbologia assolutamente positiva che cosa è una è una diciamo questa è una delle carte migliori del mazzo perché vedete che al al di là no di questa porta c'è appunto un una grande ricchezza vedete c'è un ci sono le luci accese c'è dell'oro c'è un bel arredamento cioè è tutto molto ricco tutto molto suntuoso ok quindi che cosa è cioè che cosa che tipo di energia ci dà questa persona nei vostri confronti diciamo che questa persona vuole fare dei progetti con voi ha degli obiettivi rispetto a voi vi vede come una ricchezza come un una ricchezza da cogliere una ricchezza da prendere cioè vi vede come una persona che in qualche modo arricchisce no la vostra vita è una persona diciamo che è ben disposta nei vostri confronti e che ha intenzioni anche probabilmente di proporsi a voi anche con una certa progettualità cioè diciamo che quando esce questa carta addirittura si può parlare di una persona che vi fa una proposta per un matrimonio una convivenza una vita insieme quindi parliamo di importanti passi proprio perché appunto vi vede come un dono potrebbe anche farvi un regalo per esempio perché comunque dietro questa porta c'è anche la simbologia proprio del dono anche dato del dono anche offerto ma sicuramente ciò che vuole che questa persona vuole proporre a voi diciamo è se stessa o se stesso ok quindi diciamo che quando esce questa carta dovete capire che questa persona si sta sforzando di essere positiva nei vostri confronti quindi non dovete avere paura delle sue paure le sue parole scusatemi cioè dovete comunque in qualche modo anche dimostrargli fiducia incoraggiare perché comunque è una carta anche molto come dire veloce non è detto che questa persona vi faccia una proposta di matrimonio domani voglio dire però diciamo che è una situazione dove le occasioni vanno comunque colte no in maniera rapida perché ecco è chiaro che se voi scoraggiate per dico per assurdo una persona che ha delle così belle intenzioni nei vostri confronti diciamo potrebbe magari non non prenderla benissimo insomma no ecco quindi mi raccomando non abbiate cioè se veramente questa persona voi la volete insomma se è questa persona che desiderate non abbiate situazioni perché vi aprirà in qualche modo il suo cuore così come questa porta è aperta verso di voi ok bellissima questa carta davvero per voi che avete scelto il cristallo azzurro bene adesso andiamo a terminare il nostro consulto di oggi leggendo cosa c'è cosa nasconde la nostra terza variante quindi il cristallo verde vediamo un po allora qui abbiamo l'arcano insomma l'oracolo chiamiamolo come volete numero 13 ok che è i guardiani delle porte allora che cosa significa questa porta allora questa carta insomma questa porta allora diciamo che vediamo che qui c'è questa creatura è questa creatura comunque mitologica no diciamo davanti a questa porta che appunto sta a guardia quindi diciamo che questa simbologia ci rimanda al concetto di protezione di protezione e di prudenza ma anche di segreti quindi qui dobbiamo fare forse un pochino di attenzione perché perché diciamo che questa persona in questo momento probabilmente si sta in qualche modo proteggendo da voi ora proteggendo da voi che può significare tante cose può significare sicuramente che non vi sta dicendo tutto che non è del tutto sincera o sincera ma non che vi dice bugie su qualcosa che voi non dovete sapere perché magari vi sta prendendo in giro o altro ma semplicemente perché questa persona fa fatica probabilmente a lasciarsi andare nei vostri confronti ok quindi non riesce diciamo a essere completamente se stessi ok quindi non riesce diciamo a essere completamente se stesso si protegge quindi è cauta questa persona ha un atteggiamento di prudenza ha un atteggiamento di discrezione quindi è una persona che si protegge che non vuole scoprire le sue carte non vuole scoprire i suoi sentimenti non vuole dirvi le sue intenzioni più profonde perché magari ha delle aspettative nei vostri confronti ma non ve le svela in questo momento cioè ha ancora diciamo probabilmente paura anche a confidarsi oltre che affidarsi potrebbe anche avere delle situazioni di cui vorrebbe forse in parte parlarvi ma non si non sa se effettivamente può farlo ok quindi diciamo che probabilmente sta in una fase ancora di riflessione sta in una fase diciamo di attesa sta valutando vi sta studiando sta comunque cercando di capire effettivamente no cosa vuole fare con voi ma in realtà non tanto cosa vuole fare ma se può fare quello che vorrebbe quindi diciamo che in questo modo questa situazione presupporrebbe che diciamo ci sia comunque un interesse o un sentimento perché di solito una persona si cautela no quando ha qualcosa da perdere ok quindi adesso ora ovviamente non possiamo andare troppo a fare delle come dire delle ipotesi molto specifiche perché non stiamo facendo un consulto con Tarocchi, Sibille dove possiamo magari andare a fare domande eccetera quindi ci sarebbe tanto se vogliamo qui da approfondire nel senso che bisognerebbe magari capire cos'è che rende questa persona così cauta che cos'è che la rende così prudente insomma ci possono essere tante sfaccettature però ecco quindi l'intenzione possiamo dire che ha questa persona in questo momento rispetto a voi è quella di frenarsi di essere cauta o cauto di non lasciarsi andare per il momento per una questione di cautela di paura quindi non perché non vuole ma perché diciamo ripeto probabilmente non vuole ma perché è chiaro che questo è una questa simbologia richiama il discorso della protezione no da chi vuole far qualcosa di male diciamo no o comunque ferire o comunque danneggiare in qualche modo quindi è una persona che si fida in questo momento ancora troppo poco per tantissimi motivi potrebbe essere ovviamente ricordo che siamo in un interattivo quindi ognuno potrebbe avere un motivo diverso ok benissimo questa era la lettura di oggi spero che l'abbiate ritenuta interessante mettete like se il video vi è piaciuto continuate a seguirmi sul canale scrivetemi se avete bisogno di me in privato io vi auguro una bellissima giornata e vi mando un grande abbraccio vi do appuntamento come sempre al prossimo video ciao